una meraviglia ma sai che fa proprio di roma sparita beh sì facciamo mai stata a roma peraltro facciamo il nostro meglio anche perché sennò poi spariamo pure noi no che cosa vi porto due estratti di rava rossa mela e zenzero per noi ma non mangiamo niente perché tu ancora mangi ma tipo la chinoa qualche volta la chinoa con le multinazionali che si approfittano dei paesi del terzo mondo che la coltivano beh contenta che mangia di la chinoa no hai ragione non è vero non è vero ok ok non è vero ma tu chi cazzo sei sei una fottuta poliziotta mi stai giudicando ok allora te lo dico mi sono fatta una cazzo di riga una riga qual è il problema ieri invece niente non ho fatto niente lo giuro io ho bisogno di te non puoi lasciarmi e comunque io dissi sì dottore subito la voglio sposare anch'io così penso che è matta torniamo sono il pensiero pelare va bene torniamo